Salgono i contagi da Covid, il governo corre ai ripari. La somministrazione della terza dose di vaccino per i cittadini dai 40 anni in su, annuncia il ministro della salute Roberto Speranza, viene anticipata al primo dicembre. Si apre dunque una nuova fase che vedrà coinvolti altri 15 milioni di italiani, oltre agli over 60 e ai pazienti fragili. Un ulteriore passo avanti, sottolinea il titolare della salute. Dal prossimo mese dunque, la fascia dei quarantenni e dei cinquantenni può effettuare il richiamo booster purché siano passati 180 giorni dall'ultima dose ricevuta. Perché la terza dose anche ai quarantenni? Vuol dire forse che il vaccino magari non funziona più? Qual è l'importanza? Diciamo questo, il vaccino funziona. Il vaccino funziona e abbiamo dei dati oggettivi. Penso che potete vedere la tabella che non è mia, ma è della regione Lazio, del sito Salute Lazio, dove dimostra in un confronto fra il 3 novembre dell'anno scorso, il 3 novembre di quest'anno, i numeri. Si è visto che effettivamente dopo qualche mese, in qualcuno di più, in qualcuno di meno, la risposta è cala, la risposta all'infezione. Anche se i vaccinati si ricoverano comunque di meno e comunque non vanno quasi mai in terapia intensiva, è necessario ed è utile fare una dose cosiddetta booster, una dose di rinforzo, di richiamo. Tutto qui. È un impegno economico, è un impegno importante, effetti collaterali sono veramente quasi inesistenti, se non locali, per cui l'invito è a farsi questa vaccinazione. C'è una grossissima richiesta, l'SMS ha funzionato e questa volta, avendo messo nell'SMS anche la nostra figura, i pazienti ci telefonano, sono più contenti di venire a studio per mille motivi. Noi ci stiamo, crediamo nella vaccinazione e quindi siamo pronti, anche se è veramente un grosso impegno di lavoro. Gli studi che abbiamo a nostra disposizione dimostrano che c'è un declino della risposta immunitaria dopo i sei mesi dal completamento del ciclo primario. Quindi anche per questa vaccinazione si era pisata la necessità di dare quella che si chiama dose booster. Si è anche visto che comunque nei rari casi in cui una terza dose è stata fatta prima dei sei mesi e dalla seconda dose, quindi dal ciclo di base, questo non ha comportato un aumento degli eventi avversi. Quindi voglio rassicurare da questo punto di vista tutti quanti i cittadini.